Il professor Decina, quando ha introdotto la sua presentazione, ricordava i molti anni di attività con la Fondazione Bordoni, con l'Agicom. Io credo di essere qui oggi perché anch'io devo ricordare molti anni di attività comunque in questa industria, in questo mercato. Sono 15 anni ormai che probabilmente esattamente in questi giorni che ricevemmo la licenza per le telecomunicazioni e che iniziamo a lavorare in questo settore. In un contesto totalmente diverso rispetto ai giorni di oggi e anche con una euforia non solo finanziaria ma industriale, di business proprio totalmente diversa rispetto a quella di oggi. E allora, essendo il più piccolo degli operatori, però avendo questa lunga storia, mi viene da dire qualche parola, perché credo di sincerità. Non so se possono essere utili a questo scopo. Commentando le cose che ho sentito e che ho visto stamattina. Innanzitutto lo ricordava anche Marco Patuano. Vale sempre la pena di ricordare che stiamo parlando di due mondi, quello della rete fissa e della rete mobile. Sono due mondi che io capisco, magari mi sbaglio, ma comunque totalmente diversi nonostante quello che ci diciamo sulla necessità della convergenza e di metterli a fattore comune questi due mondi. E credo che sulla rete mobile, è stato già detto, l'Italia ha avuto delle attività attività proprio da pioniere, dal punto di vista industriale, dalla standardizzazione, del marketing, delle implementazioni di mercato. E quel ruolo continua ad averlo in Europa e anche fuori dall'Europa. E non glielo sta levando nessuno. Quindi dobbiamo iniziarci a dire, a non facerci la testa più del necessario, che l'industria italiana del mobile è un'industria importante e che è al passo del mercato. Il mondo della rete fissa è un mondo totalmente diverso. E credo che si possa dire che nessun operatore di rete fissa ha fatto dei flussi di cassa positivi in questi anni. E ha remunerato gli azionisti. E casomai chi ha fatto fisse mobile ha utilizzato i flussi di cassa positiva del mobile in qualche modo per sussidiare il fisso. E forse da questo dovremmo imparare qualcosa per il futuro. Dovrebbe farci riflettere prima di provare a dire che magari singolarmente possiamo essere fortissimi e più bravi degli altri. Forse dovremmo iniziare a dire che riusciamo tutti assieme e non usciremo mai da questa difficoltà del fisso. Concordo nel dire che i dati di penetrazione del broadband tra l'Italia e l'Europa non sono così disastrosi come potrebbero sembrare a prima vista avvicinandoci a Cipro invece che altre realtà più sviluppate. Io preferisco guardare la penetrazione delle famiglie piuttosto che quella dei singoli utenti perché può anche dipendere dalla struttura familiare altrimenti il dato e cioè se ci sono molto famiglie di una sola persona o di due persone se ci sono delle famiglie numerose di quattro persone e così via. Come penetrazione per famiglia noi in Italia siamo intorno al 55% mi pare e ci confrontiamo con un 70% di altri paesi europei. Altri paesi europei e quindi con la distanza vicina al 20%. Altri paesi europei è stato già detto gli toglierei gli operatori della cable tv e quindi famiglie che vengono raggiunte solamente per la tv via cavo. Io non ho una grande esperienza ma nella Repubblica cieca posso testimoniare che è esattamente quello che accade. Molte famiglie sono raggiunte solamente dalla tv via cavo e non dalle offerte broadband. E quindi toglierei qualcosa al dato più alto europeo e aggiungerei qualcosa al dato più basso italiano per il fatto che lo sappiamo, lo tocchiamo con mano ogni giorno, molte famiglie hanno preferito staccare la DSL avendo una buona qualità di dati, non in WiMAX ma in LTE o 3G. E quindi la nostra distanza non è quella che potremmo leggere a prima vista ma è molto inferiore e quindi non vale la pena, non è molto giusto facciarsi la testa più del necessario. Però vorrei dire questi 15 anni ci devono aiutare un pochino a guidare il futuro. Avrà senso continuare a pensare che la rete fissa possa essere moltiplicata e che ognuno si faccia la sua e che assistiamo a delle cose come abbiamo assistito agli inizi del 2000 dove si moltiplicavano i tubi che si mettevano sull'autostrada del sole e i cavi che si mettevano sull'autostrada del sole o sulla dorsale atriatica e quantità di investimenti che ancora oggi sono inutilizzati. Io credo di no, non ci sono quelle risorse, non ci sono risorse da sciupare e sarebbe bene che si smettessi di sciuparle nel futuro. probabilmente i discorsi che si sentono oggi e che sono stati anche richiamati della separazione della rete e della costruzione di una rete di accesso nazionale con un perimetro da definire che per me dovrebbe riguardare anche la prima elettronica ci può permettere innanzitutto di avere una infrastrutturazione dell'Italia a meno a macchia di leopardo ma comunque consapevole dei diritti di tutti i cittadini sia di quelli che abitano nelle città ad alto spending sia di quelli che continuano a decidere di abitare nei paesi perché anche di quelli si ha bisogno. Distribuire bene le spese infrastrutturali e farlo nel modo più efficiente possibile e con l'utilizzo più efficiente possibile delle risorse finanziarie a livello di paese. Insomma non siamo andati a moltiplicare le reti ferroviarie però c'è la concorrenza oggi nel mercato delle ferrovie specializzandoci nei servizi piuttosto che nella costruzione di differenti reti. È evidente che le reti TLC sono qualcosa di un pochino diverso però forse assomigliano anche un pochino alle reti del gas e altre reti per le quali abbiamo utilizzato delle processi di liberalizzazione diverse. Io credo che si sia sbagliato nel passato a non partire con la società della rete separata come si fece con Terna e ora si è seguito con Snam rete gas, con le ferrovie e che ora fortunatamente forse faremo anche per le telecomunicazioni in Italia. Questo perché forse ci avrebbe permesso oggi con la stessa mole di investimenti di avere sicuramente un livello infrastrutturale più forte, più robusto nel paese e magari ci avrebbe permesso anche di concentrarci su un'altra cosa che oggi di cui abbiamo parlato poco, sono i servizi. E prima di spendere l'ultimo minuto che mi rimane sui servizi vorrei aggiungere una variabile alle slide che oggi sono state presentate e che secondo me molto hanno influito in Italia e cioè la dimensione della speculazione finanziaria. Vorrei sapere se in altri paesi europei i grandi incumbent come Deutsche Telekom, Franz Telekom, KPN, chi più ne ha, chi più ne mette, attorno a quelle società lì ci sono stati questi passaggi così importanti dal punto di vista finanziario che hanno fatto sì che dal 2000 in poi effettivamente un certo distacco che prima non c'era, giocava totalmente a vantaggio della nostra industria nazionale poi ha finito per essere un grande peso per la nostra industria nazionale. E anche ora questo ci deve aiutare forse a immaginare degli scenari diversi per il futuro per cui leggo con molto piacere questa possibilità di cooperare tutti in una società della rete. I servizi. Mentre tante discussioni sono state fatte come oggi e sempre ci siamo lamentati di come siamo indietro sulla broadband, sui 100 megabit eccetera eccetera, io credo che alla competitività del paese serva sicuramente un megabit in più, possa essere utile un megabit in più, ma serve infinitamente di più la moltiplicazione dei servizi che la pubblica amministrazione è in grado di distribuire in rete. Il problema dell'Italia non è che c'è un megabit in meno, il problema dell'Italia è che o ci vado a piedi o non faccio niente con la pubblica amministrazione centrale, regionale, provinciale, comunale, a volte con la scuola, a volte con mille altri luoghi pubblici. E forse avremmo fatto bene a fare molti più convegni sulla numerosità e la qualità e la tempestività dei servizi di tutto il sistema paese e allora vedrete che saremo stati più competitivi. E' un'ultima cosa, dobbiamo proprio correre a dare un megabit in più affinché YouTube sia ancora più veloce in Italia e finalmente si affretti anche il momento in cui cancellerà l'industria media nazionale e finalmente cancellerà anche l'audience della RAI, di Medias, della Sete, di chi si vuole. O non sarà bene forse che ci prendiamo un minuto di respiro in più e pensiamo anche di costruire i nostri servizi nazionali come ad esempio il Cubo di Telecom Italia che è iniziato, è partito un po' in ritardo ma cerca di competere con altri servizi come iStream, come Netflix, come YouTube, come tutti quei servizi di cui che sembra che rendono indispensabile moltiplicare la capacità della rete ma che in realtà dobbiamo impararci a fare noi da soli se vogliamo difendere l'industria, sapere e il lavoro italiano. Il dibattito di questi giorni su quello che è accaduto negli Stati Uniti ci dovrebbe fare riflettere anche almeno un secondo di più sulla net neutrality. Concordo con quello che ho sentito dire da Marco Patuan, nessuno si può immaginare di toccare questo principio che ormai è un principio di democrazia diffuso e così percepito in tutto il mondo. Però mentre gli over the top sono diventati così importanti è giusto che un over the top bussi alla mia porta e mi dica sai che c'è? Ti faccio il favore di metterti la cash gratis nel tuo data center. Per cui io devo investire in data center, devo investire in elettricità, in luce e poi lo devo ospitare gratuitamente. E chi fa l'operatore di rete deve persino dare, fargli anche le pulizie a chi fa l'operatore di servizi. Forse c'è un modo diverso di immaginare una distinzione e la necessità di remunerare ogni tipo di lavoro e ogni tipo di investimento. Grazie solo.